La disoccupazione si aggrava, secondo la CGL Milanese, i dati che emergono sono di cassa integrazione aumentata del 130% nel capoluogo lombardo. Ritrovato morto l'imprenditore scomparso dell'uomo di Taormina non si sapeva nulla dal 24 marzo scorso. Contrafazione oggetti TUN, finte produzioni della nota marca Alta Otesina scoperte dalla Guardia di Finanza in molte città italiane. Bonifica la barbuta di Roma dopo il rogo di pneumatici nel campo abusivo, l'intervento del comune. Earth Day, la giornata della terra a Milano, la giornata mondiale della terra celebrata dal sindaco Letizia Moratti. Ben ritrovati gentili telespettatori, ecco subito il nostro primo servizio riguarda l'occupazione. Secondo la CGL la crisi a Milano e in provincia dal punto di vista occupazionale si sta aggravando ed è cresciuta. La cassa integrazione straordinaria che nel solo mese di marzo ha registrato un incremento pari a oltre il 130% rispetto alle ore autorizzate del mese precedente. I giovani occupati nella provincia di Milano rappresentano ormai il 18% con una punta del 23% nel solo capoluogo. Qui si inserisce la dinamica del tirocinio di stage che a Milano interessano nel corso del 2010 circa 25.000 giovani. Collocando Milano in testa alla città che fruiscono di questa forma di contratto. La crisi occupazionale a Milano e provincia si sta aggravando. I dati parlano di crescita della cassa integrazione straordinaria e di una situazione preoccupante in particolare per i giovani. Tra il mese di marzo e il mese di febbraio abbiamo avuto un'esplosione della cassa integrazione, soprattutto quella straordinaria che significa che le aziende stanno ristrutturando, stanno chiudendo. E quindi è un dato molto preoccupante perché se noi andiamo a leggere i dati relativi alla cassa integrazione vediamo che c'è una riduzione della cassa integrazione ordinaria. C'è un dato stabile molto alto, 2 milioni di ore per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga e invece c'è un aumento del 137% per quanto riguarda la cassa integrazione straordinaria. Vuol dire che non solo c'è la crisi ma sta colpendo pesantemente le aziende e sta colpendo pesantemente il lavoro. Solo nel 2010 abbiamo avuto circa 20 mila persone che non hanno lavorato per tutto l'anno in ragione della cassa integrazione straordinaria che stavano facendo e possiamo dire che solo nei primi tre mesi del 2011 abbiamo più di 5 mila persone che si trovano nelle stesse condizioni. Per cui è un dato molto preoccupante che sta a significare che la crisi non solo c'è ma soprattutto su Milano provincia sta colpendo in modo particolarmente rilevante. C'è anche il problema dei giovani. Ecco, dentro questo dato della crisi che riguarda tutti i settori diciamo che i giovani sono i più colpiti nel senso che i giovani hanno un tasso di disoccupazione per quanto riguarda la provincia di Milano del 18% ma attenzione per quanto riguarda la città di Milano questo 18% diventa il 23% quindi vuol dire che esiste un problema di occupazione giovanile generalizzato ma che sulla città di Milano ha una sua particolare rilevanza. La CGL chiede maggiore attenzione al comune di Milano con la costituzione di un tavolo di lavoro sull'argomento. Noi chiediamo al futuro sindaco che si costituisca come primo atto uno dei suoi primi atti il tavolo relativamente alla crisi intanto per condividerne i dati e poi per ragionare tutti assieme di che cosa a partire dalle istituzioni locali è possibile fare per creare opportunità di lavoro e nuovo sviluppo. È stato trovato impiccato ad un albero siamo a un servizio che riguarda la cronaca in un fondo agricolo di Contrada a Randazzo in provincia di Catania l'imprenditore edile di Taormina Maurizio Russo l'uomo di 41 anni era scomparso il 24 marzo scorso addosso aveva gli stessi indumenti del giorno in cui sparì quando fu visto vicino a Piedemonte Etneo il suo furgone era parcheggiato poco lontano dal luogo del ritrovamento ma vediamo i dettagli nel servizio. È stato trovato morto l'imprenditore Maurizio Russo originario di Taormina l'uomo di 41 anni era scomparso lo scorso 24 marzo in circostanze ancora tutte da chiarire il suo corpo impiccato ad un albero è stato rinvenuto da alcuni agricoltori in un fondo di Contrada a Pirao a Randazzo nel Catanese della sparizione dell'uomo si era occupata anche la trasmissione Chi l'ha visto dove la moglie aveva lanciato un appello per il suo ritrovamento il ricordo del fratello Sebastiano è quello dell'amico Nunzio La famiglia? La mia famiglia tranquilla una persona tranquilla anche lui era Qualche volta le ha confidato qualche difficoltà insieme al lavoro? Completamente Per me è impensabile guarda io per come lo conosco da amico non ritengo posso aver fatto un gesto del genere poi non posso mettere la mano sul fuoco d'altronde poi gli inquirenti non ci hanno dato delle notizie certe lo scenario che si è presentato fa presumere al suicidio però aspettiamo risposte dagli inquirenti Non presenterà osservazioni illegale di Danilo Restivo nella terza udienza dell'incidente probatorio nell'ambito dell'indagine dell'omicidio di Elisa Claps durante la quale si confronteranno i periti per il ritrovamento del DNA sull'indagato la perizia del RIS esaustiva ha commentato il legale della famiglia Claps è ovvio che non ci siano osservazioni da presentare Un'altra notizia un terremoto di magnitudo 3,5 è stato registrato nel canale di Sicilia tra la costa meridionale dell'isola e Malta ad una profondità di quasi 20 km si tratta della stessa zona dove negli ultimi giorni sono state registrate numerose scosse secondo la centrale operativa della protezione civile regionale il sisma che non è stato avvertito dalla popolazione non ha provocato danni ieri mattina un'altra scossa di magnitudo 3,9 era stata registrata in mare davanti alle coste del Palermitano nel corso di una operazione anti-contraffazione condotta contemporaneamente in più regioni italiane la Guardia di Finanza ha sequestrato 85.000 oggetti contraffati di marca Thun e denunciato 23 persone gli articoli venivano venduti in negozi sprovvisti della concessione di licenza della notta società detentrice del marchio questo fatto ha insospettito le fiamme gialle che dopo aver contattato la casa produttrice Alto Attisina hanno stabilito che si trattava di oggetti contraffati ma vediamo il servizio i finanziari del comando provinciale di Roma hanno individuato un negozio ed un magazzino entrambi ubicati in Guidogna Montecelio e provincia di Roma dove erano custoditi circa 30.000 oggetti Thun i pezzi erano contraffatti e pronti per essere immessi sul mercato clandestino i due depositi erano gestiti da quattro soggetti di nazionalità cinese appartenenti al medesimo gruppo familiare che in poco tempo era già riuscito a smerciare altri 130.000 pezzi appena giunti dalla Cina i quattro sono stati denunciati a piede libero dalla procura della Repubblica di Tivoli per il reato di importazione e commercializzazione di prodotti contraffatti l'operazione condotta dal nucleo di polizia tributaria di Roma ha avuto origine mediante il continuo e scrupoloso monitoraggio delle movimentazioni delle merci in determinate aree a rischio del comune di Roma e provincia in particolare i finanzieri hanno prima individuato un locale commerciale aperto al pubblico dove facevano bella mostra sugli scaffali circa 2.000 pezzi di oggettistica varia contraffatta riproducente forme e disegni registrati dalla ditta Tunna successivamente è stato scoperto un magazzino all'interno del quale venivano rinvenuti ulteriori 28.000 pezzi della stessa merce inoltre dall'esame della documentazione rinvenuta nei due esercizi si è potuto attribuire a una delle due società una vendita di frode di ulteriori 130.000 pezzi di articoli contraffatti di stessa natura tra gli oggetti sottoposti a sequestro forme di sole piccoli animali piante floreali e oggettistica di arredamento la merce destinata principalmente ad invadere il mercato della capitale sarebbe stata venduta ad un prezzo sensibilmente inferiore rispetto all'originale danneggiando gli operatori regolari oltre a costituire un pericolo per i consumatori soprattutto per i più piccoli non essendo in alcun modo certificata la rispondenza del materiale utilizzato per il confezionamento agli standard comunitari facciamo un altro servizio una bonifica necessaria per un terreno abusivamente occupato a Roma presso la barbunta recentemente erano scoppiati incendi di pneumatici lasciati sul posto da cittadini non molto predisposti alla corretta raccolta dei rifiuti soddisfazione da parte del comune vediamo servizio c'è soddisfazione per la via della bonifica straordinaria presso la barbuta da parte del dipartimento ambientale di Roma capitale è arrivato l'intervento urgente dopo l'ennesimo rogo di pneumatici avvenuto pochi giorni fa nel campo abusivo l'assessore Marco Visconti ha avviato una ferma operazione di contrasto a un vero e proprio scempio ambientale causato dalla presenza di migliaia di copertoni scaricati abusivamente in quei luoghi qualcuno le ha portate qui queste gomme quindi sarà stato qualche ammascalzone ma qualcuno gliel'ha anche date sono una marea di gomme per cui anche qui insomma chiederemo ai nostri vigili la polizia carabiniera e la guardia di finanza di fare anche un controllo presso qualche gommista perché c'è una mole di pneumatici veramente impressionante per cui sicuramente aumenteremo anche i controlli perché questo è un rifiuto speciale che non si può buttare in questo modo questo è veramente un delitto ecco questi sono crimini voglio chiamarli per nome e cognome si chiamano crimini odiosi questi perché poi queste gomme quando gli danno fuoco fanno un fumo che è proprio velenoso oltre che essere nocivo è una cosa veramente indegna siamo qui per bonificare l'area poi chiuderemo quest'area per evitare appunto che continuino a buttarci le gomme i pneumatici e quant'altro oltre a vari rifiuti diciamo anche pericolosi ecco vogliamo adottare già è stata adottata nel passato la mia linea come assessore è una linea su questi temi a tolleranza zero perché sono cose veramente allucinanti non è ci hanno fatto un giro all'interno è qualcosa veramente di imberecondo una grande appuntamento mondiale che ha unito tutti quelli che appunto hanno voluto festeggiare sono state istituzioni ma anche associazioni la giornata mondiale della terra è la 41esima edizione delle celebrazioni da quando nel 70 20 milioni di cittadini americani risposero ad un appello di Nelson partecipando ad una storica manifestazione in difesa della pianeta a 4 decenni di distanza a mobilitarsi saranno 114 paesi con iniziative di informazione sulla sostenibilità fra le novità di quest'anno che l'ONU ha voluto dedicare alle foreste che punta a ricostruire i polmoni verdi andati perduti ai quattro angoli del globo questa rappresenterebbe l'elemento fondante ma a Milano c'era Letizia Moratti a parlare di questo Milano aderisce con convinzione alla giornata mondiale della terra promossa dalle Nazioni Unite 41 anni fa aderisce a una giornata che vuole essere un richiamo anche ai comportamenti dei singoli cittadini perché tutti insieme miglioriamo la qualità della vita nella nostra città noi aderiamo perché riteniamo che come istituzione abbiamo delle responsabilità nel creare le condizioni perché i cittadini possano avere comportamenti positivi e virtuosi e quindi sono essenzialmente due le aree nelle quali stiamo operando una è quella del trasporto pubblico che continuiamo a potenziare con un'integrazione delle diverse modalità di trasporto pubblico quindi metropolitane autobus di quartiere incremento del bike sharing del car sharing utilizzo quando sarà possibile dei mezzi ibridi ed elettrici rinnovo della flotta dei mezzi pubblici nel campo dell'efficienza energetica lavoriamo attraverso un regolamento edilizio che prevede delle misure molto precise per avere riduzione di energia e quindi maggiore efficienza energetica lavoriamo sull'illuminazione pubblica che contribuisce a ridurre ad incrementare l'efficienza energetica e sono tante anche le azioni di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini perché possano avere comportamenti virtuosi credo che tutto l'insieme di queste azioni ci porterà ad avere una significativa riduzione di CO2 in linea con quelli che sono gli obiettivi europei che Milano ha sottoscritto abbiamo concluso questa edizione del nostro telegiornale vi ringrazio per l'attenzione vi ricordo le previsioni del tempo dicono cielo nuvoloso ma con temperature stazionare sui nostri comuni estenews.it è il sito grazie e arrivederci grazie